Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Altri supporti per altri vecchi archetipi da Phantom Nightmare Prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di essere sempre, aggiornati con il mondo di Yuuki Mi raccomando ragazzi, è importantissimo l'iscrizione ci aiuta veramente tanto Grazie mille E partiamo, devo dire che questi aggiornamenti mi sfanculizzano un pochino la programmazione Perché avevo messo upgrade di Atlas e la profile con l'aggiunte Profile con l'aggiunte che si rinvia domani Allora, White Mambo White Sunfish, è più bello White Sunfish Allora, se questa carta è nella mano possiamo targettare un mostro di livello 4 inferiore Pesce nel cimitero con lo stesso nome di una carta e controlliamo E evochiamo specialmente questa carta E poi evochiamo specialmente quel mostro Se questa carta viene evocata specialmente nel cimitero Possiamo trattarla come un tuner in questo turno Sardina bianca Possiamo andare un'altra sardina bianca da deck al cimitero Per evocare specialmente questa carta dalla mano Così poi puoi evocare anche quell'altro Ok Non possiamo evocare specialmente mostri all'extra deck per questo turno Se questa carta viene evocata specialmente dal cimitero Può essere trattata come tuner in questo turno Ok Entrambi si vanno a fare extender per loro White Aura Porpois Un'acqua tuner Più mostri non tuner Se viene evocata sincro Possiamo specialmente un mostro veloquato Un figlio di pesce Dalla mano un cimitero in difesa Poi possiamo evocare specialmente un mostro con lo stesso nome dal cimitero Se questa carta che controlliamo è distrutta dall'avversario O mandato dal cimitero Possiamo bandire un altro mostro acqua dal graveyard Per evocare specialmente E se lo facciamo viene considerata come tuner Carta magia Testata piano White reincarnation Sono molto simpatico Quando questa carta si risolve possiamo aggiungere un pesce Che ha effetto di farsi trattare come un tuner Ma che cazzo No mi fa ridere sta cosa Aggiungi un pesce che nell'effetto si dice che lui stesso può essere un tuner Una volta per turno se un mostro aura Attacca Un mostro white aura Attacca Alla fine del damage Possiamo fargli fare un secondo attacco Una volta per turno su un mostro veloquato Superiore pesce sincro Uno o più pesce sincro Vengono evocati dal graveyard Eccetto durante il damage Possiamo spaccare tutti i mostri che l'avversario contro Carina Questa è molto carina Questa è una bella cartina che ti fa fare una grande interruzione Non è male Alla fine ti fa fare addino Ti fa fare un doppio attacco Ti fa fare spacchino totale Diciamo una carta magia continua Abbastanza forte Abbastanza forte Alla fine sono degli extender Carini Non troppo Che giocano Più o meno tra se stessi Almeno sti due Ovviamente poi nel mazzo pesce Tutta White tower è tutta Una soul Fogging Manco mi ricordo Di carte White tower Sinceramente Però insomma Già di per loro Si evocano tranquillamente Fanno fare roba Può essere carino Soprattutto con la carta magia continua Che fa da addino Spacchino E doppio attacco Comunque Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate ovviamente Noi come sempre ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti